mannaggia quel porco sirio fermo qua è partito da qua a terra bravo sirio non è partito davanti ai piedi non ti riuscivo a capire dove stavi e e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.